San Giorgio Canavesi ha dimostrato di amare l'arte, la cultura, la musica. Sì, direi che abbiamo avuto l'occasione finalmente, con il periodo Covid, di mettere in atto quella che è la nostra qualità di San Giorgesi, che è quella di raccogliere le sfide di Loretta del Ponte, la padrona di casa, che insieme all'Associazione Arte e l'Associazione Medici Scrittori ci ha proposto di coniugare tutte le esperienze locali per far sì che in questi due giorni l'arte e la cultura diventassero una forma di dialogo, di apertura di nuovo di una delle dimore storiche di San Giorgio, una delle diverse dimore storiche di San Giorgio che arricchiscono il patrimonio culturale del nostro paese e quindi stiamo trascorrendo queste due giorni insieme a uomini e donne che stanno dialogando in modo concreto, in modo molto interessante, coinvolgendo anche le scuole. Abbiamo il 25 aprile faccio di Castellamonte e Quornier e Lubertini di Caluso e Chivasso che stanno collaborando con questa iniziativa con la volontà di farla diventare un brainstorming di relazioni che possano far sì che queste esperienze evolvano anche in periodo post-Covid quando lo sarà, ma nel frattempo noi sappiamo che con questo tipo di approcci riusciamo a incontrarci, a socializzare in un modo equilibrato e trarne degli spunti positivi anche insieme ai medici e ai medici scrittori con cui dialoghiamo di tutto quello che è successo e di quello che sta capitando e di come dovremmo affrontare il periodo non solo trattandolo a livello superficiale e quindi schierandosi da coloro i quali difendo i medici o li trattano da eroi piuttosto che i denigratori di alcune altre qualità che qualcuno purtroppo non ha rappresentato adeguatamente nel periodo Covid, ma semplicemente vedendo tutti i lati che ci sono nella realtà dei fatti dove la stragrande maggioranza delle persone si dà un grande affare e analizziamo pro e contro di tutti gli aspetti e questo penso che sia di aiuto a tutti noi, ai giovani e anche ai meno giovani per far sì che queste giornate siano assolutamente per tutti e ai quali auspico che con l'andare del tempo aumenti anche la partecipazione e la diffusione nella comunità san giorgese cannavesana. La sua storica dimora ha a disposizione per un evento veramente particolare di culture di arte? Sì, io sono davvero molto contenta di poter collaborare a diffondere l'arte, la cultura, la bellezza nel cannavese e in particolare qui a San Giorgio dove c'è il mio luogo del cuore e poi in particolare sono contenta di accogliere questo evento che mette in relazione l'arte con la medicina l'arte con i medici scrittori perché in questo particolare momento in cui siamo così in difficoltà, così fragili davanti al coronavirus il rapporto arte-medicina è un rapporto che cura sia il cuore, sia il fisico, sia l'anima e quindi questo evento è secondo me di particolare importanza proprio in questo momento in cui siamo così fragili per il coronavirus Ci saranno comunque altre occasioni? Ospiterà altri eventi? Io spero di sì, naturalmente io sono un appassionata d'arte, non è assolutamente un lavoro, io lo accolgo per passione quindi quando si potrà, quando il sindaco darà la propria disponibilità ad organizzare nel paese un altro evento di questo tipo io sarò ben felice di accoglierlo